villa franca per me è stato è stata la mia prima assegnazione sono arrivato al gruppo nell 86 marzo 86 e fui preso assegnato il 28esimo gruppo delle streghe e lì cominciò cominciarono i tre anni forse più difficile allo stesso tempo più soddisfacente la mia carriera in aeronautica perché era era duro l'aeroplano era difficile era difficile il ruolo ed era abbastanza lungo l'addestramento per ottenere la combattere di nes che per noi era una combattere ne sdoppia perché si raggiunge la combattere di nese sia nel ruolo caccia dal ricognitore sia nel ruolo caccia bombardiere che era il nostro ruolo secondario per cui è una doppia un doppio lavoro c'era sia il lavoro da ricognitore sia che le campagne tire a decimo per raggiungere le qualificazioni necessarie per diventare combattere di nel ruolo caccia bombardiere e volevamo sul 104 g quello che ululava era un aeroplano che aveva un po meno spinta dell'ess andavamo sempre carichi come degli asini coi bidoni sotto le ali e il bidone sotto la pancia per fare le fotografie ed era interessante soprattutto quando faceva caldo ricordo dei decolli da sigonella quando ci rischieramo sigonella per famoso la famosa crisi libica dei missili su su lampedusa di ghedafi che decollavamo da sigonella che faceva molto caldo carichi come dei sommari e ruotavamo a fine pista sentivamo la bliss back la barriera di sicurezza di fondo pista lo sentivamo sotto le ruote quando ruotavamo passavamo sulla recinzione un paio di motri metri sopra i retaioli sta lunga di fuoco dietro questo rumore assordante per la gioia di tutti quelli che si assiepavano alla fine a fine pista sigonella il ruolo del ricognitore era un ruolo difficile si volava quasi sempre da soli e al contrario del degli intercettori il quale a quei tempi era un tutto un po risibile sul risultato di un combattimento aereo piuttosto che di un intercettazione noi con le fotografie c'era poco da da imbrogliare sulla pellicola veniva fuori l'orario al quale avevamo sorvolato il target si doveva sovrapporre le immagini per creare questa immagine tridimensionale del target per cui non si poteva barare la casa la target lo portavi all'orario previsto più o meno o se no non c'era modo di imbrogliare e fra l'altro il 104 era un aeroplano col quale si andava in giro nello stesso modo in cui andava in giro il barone rosso francesco baracca durante la prima guerra mondiale cioè si navigava essenzialmente con bussolo orologio cioè si tiravano delle linee su delle cartine geografiche si faceva scattare il cronometro sopra un punto che si riconosceva a vista si faceva partire il cronometro si girava sulla prua e si andava per tre minuti e venti secondi tre minuti e venticinque ogni minuto trenta secondo riconoscendo il quello che si vedeva a terra attraversare la ferrovia il paese il fiume il ponte prossimo punto cronometro di nuovo nuova prua e si navigava così mi sarò perso migliaia di volte in valpadana in questo modo sicuramente per cui quelli che dicono che non sono mai persi mentono però si andava in giro così si andava in giro come il barone rosso bussola e prua non avevamo piattaforma inerziale che in quale potevamo inserire punti anzi ce l'avevamo in realtà aveva sei punti si caricavano con dei potenziometri con cacciavite non si potevano cambiare in volo ci tenevamo praticamente le basi alternati strana cameri rimini giusto per avere un'indicazione di pure distanza dove più o meno mettere il muso casomai fossimo dovuti andare all'alternato per cui si andava in giro da veri uomini bussola orologio quando c'era nebbia in valpadana 500 piedi senza vedere nulla davanti guardando solamente sotto e si doveva fare il target e lo si doveva fare per forza abbiamo fatto due tacheval siamo sempre andati molto bene però era un andare che richiedeva una grande concentrazione del pilota sul non mi devo perdere piuttosto che sul gestione operativa della missione 70 per cento dell'attenzione del pilota era devoluta al navigare del portare l'aeroplano hanno certo su un certo punto hanno certo a una certa ora non c'era niente che ti aiutasse a fare questo lavoro per cui perdevi anche molto spesso però si navigava da soli anche un po di situation awareness non sapevi bene quello che ti succedeva intorno non avevi molto tempo per guardarti in giro e guardati intorno non avevamo un radar warning receiver non avevamo un radar decente per cui l'aeroplano già nei miei anni parliamo appunto 87 88 dimostrava le sue grosse limitazioni operative nonostante fosse un aeroplano fantastico come prestazione nonostante fosse un aeroplano chiedesse grandi soddisfazioni al pilota dal punto di vista del volo basico della condotta e aveva delle prestazioni eccezionali per quei tempi ancora al top della categoria sicuramente operativamente aveva decisamente delle grosse limitazioni nel nostro ruolo sicuramente a maggior ragione in altri ruoli come caccia intercettore come caccia strike eccetera eccetera comunque furono tre anni bellissimi feci due tacheval partecipare due squadron exchange abbia occasione di andare all'estero campagna e tiri a decimo manu e feci anche l'addestramento per diventare il forward controller per cui mi toccò anche andare con l'esercito sul tagliamento piuttosto che sul cellina meduna a coordinare gli attacchi dei miei colleghi da terra con la radio come si faceva nel vietnam allora si usava la presentazione a bassa quota si facevano avvicinare gli aeroplani proprio con la radio e si pianificava un attacco di lì per lì il forward controller il compito suo era proprio quello di coordinare con l'esercito stava proprio lì con i soldati la radio al ridosso del target cercando di indirizzare quattro aeroplani tre aeroplani due aeroplani verso il target feci anche l'addestramento per diventare istruttore di sopravvivenza in montagna e per cui feci parecchia esperienza anche sul nel campo della sopravvivenza in montagna e parecchi corsi da istruttore e bionche l'occasione di imparare a sciare in quelle occasioni perché non sapevo assolutamente sciare da buon siciliano comunque rimasi a villa franca fino all 88 in grazie a tutti